Per la festa dell'Epifania, oltre a fare gli auguri come ho fatto i presepi, ho fatto il quarto Re Maggio e mi sono regalato a me e a un po' i parenti e a me una bella cassola di Re Maggi che ha cominciato a preparare i kudic prima e dopo la scuttadina, il salamite, anche questi i stessi scorsi, questi qui hanno i verduri, i carottoli, il seleri, i cigulli, però il bianco stagione un po', un acqua e patata, per fare il brotto e i bei custini che ho tolto un po' di prima, ecco che sono pronti per me dentro, il soffritto che va, con un po' di bitere di olio, secondo la ricetta che si usa, dasi dasi, è un acqua di uretta, perché chi la fa, la sa che aveva un po' di tempo e dopo, pian pian, deve venire da fare proprio bella, bella e buona, naturalmente, e questi che sono i risultati. Ciao a tutti, buon appetito! beh, se comunque vive la cassiola, me la fa cassava, magari fanno anche un piattino. Ri ciao, ri auguri a tutti!